bella a tutti i ragazzi oggi siamo qua con un nuovo video e oggi andremo a io faccio insomma la stazione di questo mio fiorentino sarà un vlog di bed no saluta youtube franci franci francesco saluta youtube tanto non mi chissi caricherà il video per no dettagli vabbè ci vediamo dopo quando si va lì il treno ciao raga siamo sempre nel treno che casino ma cos'è non so dove siamo però tra un po' in teoria dovremmo arrivare quindi bene ci si vede quando si arriva per chi cazzo allora raga siamo in piazza signoria è spettacolare ragazzi signore e signori ci vedrà poco però non mi ricordo qual è va bene raga a dopo ciao 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 a dopo eh ci vuole raga è arrivato il primo questo è la pasta al pomodoro mia questa è la carbonara di francesco la carbonara di giulio non so cos'è quella dell'edificio però bene e questa è l'altra carbonara di riccardo ciao raga a dopo siamo dentro raga lo guardi non lo ascolti dammela a me tanto non lo ascolti dammi dammi no 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 non lo ascolti no 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 questo è buttice raga questo è buttice ragazzi ragazzi vabbè ragazzi ci vediamo in treno ok ragazzi questo video è giunto in termine se vi è piaciuto lasciatelo commentate e iscrivetevi al canale noi ci becchiamo domani con un prossimo video bella ragazzi